Un martedì, anche se sembrerebbe un lunedì, perché si è giocato ieri sera, ma è martedì 29 agosto, non mi fregate, a sto giro, sempre più vicini ai sorteggi di Champions giovedì e poi venerdì, ore 20, la chiusura del mercato, così potrete stare tranquilli. Nel frattempo si torna sempre di più a parlare di calcio giocato, continuate a iscrivervi al canale, mi raccomando, che dobbiamo superare i 45.000 followers e poi svoltare verso i 50.000, quindi chiamate amici, parenti, quelli che volete, gruppi Whatsapp, Telegram, Facebook, chi più ne ha più ne metta forza, Interclub. Dobbiamo continuare a salire. Una buona, ottima, Inter che cresce nella consapevolezza, nella fiducia, nel suo gioco, nelle alternative, nella voglia di vincere. E questo non era scontato, perché il pericolo è che la squadra immatura dell'altro anno, anche quella che ha perso lo scudetto all'ultima giornata, ma con la finale di Istanbul pensasse già di essere avanti a tutti e di vincere le partite così per diritto ricevuto. Invece ho visto quella cattiveria, quella ferocia, quella voglia di vincere le partite che fa la differenza e che è secondo me il dato più importante che ci portiamo via da Cagliari. Oltre alla seconda vittoria consecutiva, secondo clean sheet consecutivo per la serie che la difesa è vecchia di un anno in più, che non ha alternative, intanto belle risposte un po' da tutti, anche dallo stesso Sommer che era stato criticato, come sottolinea il Teccaldo più famoso di YouTube, molto in estate per un amichevole, intanto sicuro, sia con i piedi che con le mani, parata decisiva che poteva riaprire la partita, la conclusione di Azzi a un minuto dalla fine, non si è fatto ingannare, reattivo sulla linea di porta, secondo clean sheet e lo portiamo a casa, soprattutto poi rientra da Cagliari l'Inter con un Turam che ha addirittura migliorato le impressioni buone della prima giornata, non ha segnato ma ha fatto segnare, questo è altrettanto importante, con una leggerezza, nonostante il suo metro e 92, di corsa, di movimenti, di tocchi, come quella idea filtrante per Dumfries per subito sbloccare la partita, un assist veramente molto bello, che impreziosisce una prestazione fatta di tanta qualità, tocchi a legare il gioco, a far partire anche l'azione del secondo gol, spesso di prima, qualcuno inizia a criticarlo perché non tira in porta, calma, come vi ho sempre detto, mi sembra che sia una virtù, no? La calma, la prudenza, si è messo al servizio di Lautaro Martinez come tutta la squadra, ed è la caratteristica della nuova Inter di Inzaghi, del terzo anno di Inzaghi sulla panchina dell'Inter. È entrato, diciamo come si dice, con i piedi, in punta di piedi, come anche quando corre, è così leggero e qualitativo. Arriveranno anche i gol, tranquilli. Adesso, per far star tranquillo anche tutto sport, arriva questa prestazione, secondo qualche giornale, anche migliore in campo. Difficile metterlo davanti a un Lautaro che un gol e un palo risulta ancora così decisivo e fondamentale. Raggiunge Ozymane Giroud senza calci di rigore, però Turam cresce e mi sembra importante nel gioco di Inzaghi abbia capito il suo ruolo, abbia capito come gioca l'Inter e come lui deve inserirsi, aspettando le occasioni che arriveranno anche per lui. Poi, un devrai a cui dedichiamo una menzione d'onore, perché ha fatto una partita perfetta, così come l'ha fatto col Monza, e vi dà anche il sapore della rosa di quest'anno. Puoi permetterti di aspettare il recupero di accelli, perché hai un devrai che è tornato ai livelli del primo anno in marcatura, in anticipo, in fase di impostazione, ed è assolutamente vero che Inzaghi ha due squadre a disposizione, aspettando poi l'ultimo tassello mancante di cui parliamo, poi conclusa la disamina sulla partita. Mettete un like e visualizzate anche il videopagelle di ieri sera, più analitico. Ci mettiamo anche nelle menzioni un Dumfries che cresce in modo esponenziale. Alla fine, tra il mondiale e il mercato, si era un po' perso in cattiveria e concentrazione, che mi sembra che ha ritrovato in questa stagione l'assist per Lautaro alla prima giornata, il gol che ha sbloccato la partita, una prestazione di corsa, di spinta. Sempre lui che organizza insieme a Turam le ripartenze con due frecce, così come Di Marco dall'altra parte. Il gioco di Inzaghi aumenta il suo volume e poi ci sono le alternative che questa partita non si sono sentite perché non ce n'era bisogno, perché l'Inter dopo un grandissimo primo tempo nella ripresa ha pensato più a controllare, ha un po' alzato il piede dall'acceleratore senza soffrire mai, se non quell'occasione a un minuto dalla fine, con due pali poi, oltre a quello di Lautaro nel primo tempo, su un bel sinistro al volo, anche Ciala ha sfiorato il primo gol del suo campionato, forse anche gasato dal nuovo coro della Curva Nord per lui. un altro coro nuovo dopo quello per Lautaro, i due leader importantissimi per lanciare la sfida dell'Inter alle rivali. Quindi detto dei cambi che non hanno inciso questa volta, ma che comunque quando vedi che entrano un quadrato, Frattesi, Carlos Augusto, Arnaudovic, Sensi, capisci che hai una rosa veramente completa, che è cresciuta nelle alternative e che può sia sbloccare le partite che controllarle come in occasione di ieri sera. Già qualcuno inizia, ama Frattesi, non può giocare così poco, ama, anche qua. Ci sarà spazio per tutti, la stagione è lunghissima, adesso si punta a chiudere, andare alla sosta a punteggio pieno e non sarà facile domenica prossima contro la Fiorentina a San Siro, poi però già subito dopo la sosta arriva il derby con il Milan e poi arriverà la Champions e servirà turnover, inizieranno a venire fuori stanchezza, qualche problemino, sperando che siano pochissimi e non così pesanti come nella passata stagione che anche quelli di infortuni poi fanno tutta la differenza nel mondo e che credo che Inzaghi sia cresciuto molto nella gestione anche degli uomini, oltre a aver azzeccato, mi sembra, la preparazione atletica, a differenza dell'anno scorso che a inizio stagione proprio c'erano delle evidenti difficoltà fisiche con quel mondiale che poi ha scombussolato tutto, ma anche prima del mondiale c'erano difficoltà che mi sembra non essere presenti in questa stagione speriamo che si vada avanti anche in crescendo, trovando condizioni di diversi elementi, dicevo Inzaghi che è cresciuto molto l'abbiamo visto nella parte finale della stagione scorsa nella gestione, nel turnover, nell'alternanza dei suoi uomini adesso può, con la sua crescita, fare la differenza in attesa di un rinnovo di contratto che credo settimana prossima chiuso il mercato, le ultime situazioni mancanti sia in agenda un altro anno di contratto più un'opzione per un secondo per dargli anche la giusta gratificazione dopo una finale di Champions raggiunta tutti gli obiettivi che sono stati centrati come la qualificazione Champions che a un certo punto era in grande pericolo e poi ha rimesso in carreggiata tutto il suo progetto con altre due coppe che non fanno mai male l'ingresso in campo di Sensi nel finale è un'ulteriore dimostrazione di quanto vi avevamo detto che si vuole dargli fiducia, come un po' tutti penso siano d'accordo anche se paghi un po' in fisicità ma hai una qualità che non si abbassa mai anzi può anche migliorare sperando che lo stesso Aslani abbia un po' più di occasioni per mettersi in mostra anche lui però non ha più due davanti a solo Ciala e non c'è più Brozovic quindi sarà probabilmente anche per lui più semplice trovare minutaggio e la possibilità di crescere ulteriormente in attesa del Nino Maraviglia che completterà tutta la sua documentazione soprattutto in questa settimana cercherà di migliorare la sua condizione dopo aver lavorato da solo, da svincolato per tutta l'estate quindi c'è da affinare, da cominciare anche un lavoro fisico importante peccato che poi ci sia la pausa dei nazionali e la convocazione del Cile che gli impedirà di fare un lavoro che penso avrebbe, di cui avrebbe avuto bisogno in attesa appunto abbiamo detto del mercato Sensi rinnoverà e rimarrà a meno che non salti fuori a un'occasione incredibile last minute e low cost che faccia andare bene a tutti un cambio di rotta che non credo ci sarà quindi si rimane così qualcuno mi chiede ma un quinto attaccante mercato delle punte chiuso manca solo il braccetto di destra sperando che si risolva il tutto nella giornata di oggi come l'Inter ha chiesto al Bayern Monaco e che questo braccetto sia Benjamin Pavard nella serata di ieri si sono intensificati i contatti con il Chelsea per Cialobà Chelsea che ha definito Lukaku adesso parleremo anche di quello con le ultime diciamo notizie in arrivo da Roma dove sbarca alle 17 Lukaku per far sognare una città intera e soprattutto aiutare Mourinho che ha portato a casa un solo punto in due partite dicevamo Pavard potrebbe sbloccarsi proprio grazie a Cialobà adesso il Chelsea che ha definito la cessione di Lukaku si può concentrare su questa trattativa con il Bayern Monaco si era fatto anche il nome di Calulù che però il Milan non cede Pavard che continua a mettere i suoi like a ogni post dell'Inter per dimostrare ancora di più quanto voglia raggiungere Milano c'è un confronto in atto interno al Bayern Monaco tra Tuchel che continua a fare muro e non autorizza la partenza di Pavard e vuole prima un'alternativa come ha spiegato a chiare lettere lo stesso allenatore del Bayern Monaco e la dirigenza dall'altro lato che vuole invece monetizzare l'accessione di un giocatore che se no potrebbe benissimo andare via a 0 a giugno e sarebbe una perdita non indifferente di 30 milioni più 3 di bonus con Pavard c'è già un accordo importante da 5 anni a 4 milioni più bonus a stagione vuole a tutti i costi l'Inter lo sta dimostrando si è allenato solo una volta nelle ultime 4 sedute a disposizione dei tedeschi per questo non è neanche stato convocato nell'ultima partita l'abbiamo detto fa abbastanza è singolare che abbia lo stesso agente di Tuchel che si mette così di mezzo a bloccare il buon esito della trattativa per cui rimane ottimismo che si possa sbloccare entro le 15 di oggi diciamo una deadline che secondo qualcuno secondo me ha poco senso si attende una risposta nella giornata di oggi definitiva dal Bayern se si può andare a chiudere quest'operazione o se l'Inter deve iniziare a lavorare su altri fronti rimane ottimismo proprio perché c'è l'accordo con la dirigenza tedesca e con Cialoba si dovrebbe sbloccare il tutto se no piano B secondo me il piano B migliore sarebbe proprio lo stesso Cialoba che costa anche meno di Pavard che è più da costruire ma è molto interessante potrebbe essere un giocatore che può far bene nel gioco di Inzaghi anche con la sua velocità, la sua fisicità tra l'altro anche è possibile schierarlo come mediano in mezzo al campo se no c'è Scurs del Torino che però abbiamo visto abbastanza in difficoltà contro il Milan e non è un vero e proprio braccetto e comunque costa parecchio più di 30 milioni e poi c'è quel Tanganga che non è che entusiasmi che ha giocato pochissimo nelle ultime stagioni che viene sempre riproposto ma non mi pare un'alternativa forse solo l'ultima spiaggia in caso non si riesca a arrivare da nessun'altra parte senza dimenticare quello Scalvini che l'Inter ha seguito con grande interesse di cui ha parlato più volte anche con il suo agente che è lo stesso di Inzaghi lo stesso di Bastoni lo stesso di Audero e che in prospettiva futura sarebbe un gran colpo però l'abbiamo detto Atalanta, Bottega, carissima chiede 50 milioni che mi sembra una cifra veramente fuori mercato anche se con un giovane con modalità poi da studiare si potrebbe magari provare ad avvicinare però molto molto difficile Lukaku alla fine andrà alla Roma com'è che erano quelli che mi scrivevano devi chiedere scusa andrà alla Juve guarda il grande scoop che è stato fatto niente Juve niente Milan Lukaku va alla Juve va alla Roma perché è stata l'unica soluzione possibile per non rimanere fuori squadra al Chelsea l'abbiamo detto ma perché adesso la Roma riesce a fare un'operazione che perché l'Inter non l'ha fatta l'Inter era un'operazione del genere perché il Chelsea fino a qualche giorno fa diceva no a qualsiasi richiesta di prestito e voleva solo e soltanto una cessione definitiva alla fine è riuscita a tagliargli parte dell'ingaggio la Roma darà quasi 6 milioni per il prestito oneroso senza nessun diritto di riscatto anche se è stata fissata una clausola recissoria da 43 milioni tra un anno vediamo se c'è qualcuno tra un anno che offre per un giocatore di 31 anni che va per i 32 43 milioni uno stipendio con commissioni 2 milioni di commissioni da 9 milioni uno stipendio è di 7 con il Chelsea che gli paga giugno no, giugno era l'Inter luglio e agosto quindi le due mensilità gli paga il Chelsea la Roma quindi per 10 mesi gli riconoscerà un ingaggio da 7 milioni più le commissioni che abbiamo detto fa un bel salto in avanti con Mourinho con cui ha un rapporto importante l'ha fatto crescere prima lo mandò via dal Chelsea perché è ancora troppo giovane nel 2013 se non sbaglio poi si rincrociarono a Manchester dove nella prima stagione fece benissimo Lukaku anche parte della seconda prima poi dell'allontanamento di Mourinho penso che per il gioco dello specialone sia fondamentale sia perfetto con i suoi strappi con la sua fisicità sia quello che manca proprio alla Roma che dovrà far a meno per molti mesi anche di Hebram molti dubbi su tutto quello che è successo in estate su quella che alla fine rimane come la più grande manovra di disturbo del calciomercato dispiace che sia finita così a qualcuno Inzaghi ha risposto da Gran Signore ha detto è un bene per il calcio italiano un ottimo acquisto per la Roma a lui interessa la famiglia dell'Inter e gli attaccanti che ha a disposizione che secondo il tecnico non faranno sentire le partenze di quelli che non ci sono più e di cui ci interessano relativamente è chiaro che la Roma adesso con un Lukaku in più diventa una rivale temibile con acquisti importanti in una situazione difficile dal punto di vista economico avete visto tutti i prestiti giocatori in scadenza che dimostrano le difficoltà del calcio italiano di oggi però con le idee si riesce anche ad allestire squadre molto competitive e adesso il problema rimane quello della condizione perché non essendosi mai allenato tutta l'estate con i problemi della scorsa stagione non credo proprio che venerdì possa giocare contro il Milan vedremo se andrà almeno in panchina probabile però è chiaro che bisogna adesso aspettare noi conosciamo benissimo i tempi di allenamento e preparazione del giocatore che anche al primo anno con Conte dopo un'estate bene o male simile ai margini del Manchester United ci mise un paio di mesi prima di iniziare a entrare in condizione vediamo un po' allora per quanto riguarda poi il mercato non dovrebbero esserci altre sorprese su Taremi anche qui ultimi giorni di mercato potrebbe il Port abbassare le sue pretese ma vi abbiamo detto come Sergio Consissao sia molto arrabbiato già per la cessione di Ottavio e non voglia assolutamente lasciar partire Taremi dai 30 il Porto sarebbe sceso a 25 il Milan offre 15 chiaro è che se veramente il Milan riuscisse a mettere anche Taremi come alternativa Giroud diventerebbe la grande favorita per lo Scudetto forse anche più del Napoli per una migliore anche qualità di alternative anche se Ozyman è adesso in questo momento l'attaccante più forte che ci sia non solo in Italia secondo me con Mbappé e Holland però ci mettiamo anche Lautaro attenzione a sottovalutare Lautaro Martinez questo quanto aspettando con ottimismo quello che può succedere oggi aspettando l'edizione straordinaria che tornerà come nelle serate più calde estive e non vi abbandona chiaramente ha poco senso farlo con le partite in contemporanea però ritorneremo con l'appuntamento che avete chiesto a gran voce voi mi raccomando iscrivetevi al canale un po' di vostri messaggi adesso di analisi della partita soprattutto allora andiamo a prendere mi raccomando like e visualizzare i video pagelle di ieri sera Turam dominante scrive Valerio gran controllo di palla gran visione di gioco gli manca il gol piano piano con il duro lavoro può diventare un attaccante completo poi aspettate anche che entri in condizione Nicola Gerla che palla Turam e che parata Sommer Akash Akash dice non è una lamentela ma il mister avrebbe potuto anche anticipare le sostituzioni ci sta come no tutto relativo non mettiamoci a fare proprio a cercare sempre qualcosa che non va speriamo su Pavard messaggio sintetico di Vincent Luca Di Feo mentre guardavo un primo tempo feroce deciso pensavo ai nomi in panchina abbiamo due squadre che ci daranno grandi soddisfazioni al netto di nuovi eventuali arrivi bella vittoria buonanotte a tutti Akash bravi tutti Lautaro un vero capitano anche Denzel sembra ritrovato giusto Filiberto oggi un approccio perfetto Turam in crescita Dunfris ottimo la concorrenza di quadrado gli fa bene debbono rimanere concentrati e affrontare gli avversari con questo atteggiamento che può fare la differenza oggi sembrava che ci fossero due ciala in campo uno che difendeva e andava a stoppare Nandez in scivolata l'altro che costruiva con la sua solita qualità e che ha preso anche un palo interno che meritava miglior fortuna questo è un gruppo compatti aggressivi e tanti movimenti senza palla molto movimento una squadra che forse è un po' stanca anche per il primo tempo fatto ma molto molto bene dal punto di vista della produzione del gioco delle manovre tutte di prima calcio piacevole per l'inter di Simone Inzaghi il tasso tecnico della squadra scrive Eugenio sembra migliorato con Turam la squadra gioca convinta e in modo maturo grande primo tempo grande gestione del secondo cambia l'altezza la sua mano si vede tutta sempre di più per quelli che volevano le zone di Inzaghi per i motivi di lavoro ho potuto vedere solo il primo tempo ti è andata bene perché è stato molto molto bello infatti dice Ivan mi ha impressionato davvero autorevolezza padronanza una tigna che lascia ben sperare e che non è mai stata così scontata grandissima prova anche stasera Francesco ottima Inter soprattutto nel primo tempo quei due là davanti gridano vendetta bene Turam e Lautaro le basi per costruire una grande intesa ci sono tutte avanti così non ci fermiamo Ziggy che ringraziamo per il suo super grazie grazie soprattutto ai ragazzi e a te grandissimo Marco per il tempo che ci dedichi sempre sempre qui al vostro servizio speriamo che arrivi anche Pavara abbiamo bisogno della riserva di un titolarissimo Darmian giocatore straordinario anche ieri super partita come sempre di Darmian ma non le può giocare tutte e con un Pavar che gli dà il cambio anche si farebbe un salto di qualità ulteriore vittoria strameritata Luca Turam bisogna che aggredisca di più l'area di rigore però avrà tempo spero di vedere in campo anche Aslane un po' di più piedi per terra Aureliano nostro mantra un vecchio trap è sempre al nostro fianco nutro delle belle speranze per la nostra Inter quindi vedete tutti i criticoni pessimisti cosmici è solo la seconda giornata ma il lavoro è stato fatto e anche di alta qualità nell'allestire questa rosa questa squadra salutiamo Rudy Altra grande prestazione prova tosta unita e concreta l'Inter Joseph poche speranze per Pavard ma la speranza è l'ultima a morire stai tranquillo dopo ci sentiamo con gli aggiornamenti Alberto ha già paura per febbraio marzo si porta in anticipo visto che di solito le squadre di Inzaghi hanno un calo importante speriamo che quest'anno anche consapevoli degli errori del passato non si ripetano Giovanni vittoria convincente speriamo dentro Pavard Anthony è un altro giocare rispetto all'anno scorso più scioltezza più grinta e più pressing alto Francesco si è veramente divertito anche questo è importante Turam che piedi fini Lautaro sempre presente Cialanoglu perfetto Di Marco suntuoso ma tutti in ottime condizioni e domani Pavard buonanotte da Castelvetrano Selinunte abbiamo visto un grande Turam Maria il nostro capitano fenomeno Ciala un grande siamo forti tutto qui Francesco Zappalà squadra molto ordinata mi è piaciuta molto la fase difensiva buona la seconda grande Barza Filippo Tornaghi il messaggio di prima era di Stefano avanti così forza Inter Paso Doble come contro il Monza un Inter che vince convince e non lascia niente agli avversari ancora clean sheet lasciamo i detrattori nel loro brodo a cuocere a fuoco lento un po' di rassegna stampa e complimenti anche alla nostra sigla del mitico Gabriele Enner con il montaggio di Fabio nero azzurro un po' dicevamo di rassegna stampa andiamo a leggere i giornali le pagelle dei giornali vediamo se combaciano con le nostre da andare a vedere rivedere voglio anche i vostri i vostri voti se siete d'accordo con i miei video di ieri sera mi raccomando tutti buono proposito della giornata Inter C6 grande risposta a Milano e Napoli Dumfries Lautaro a segno Cagliari ribattuto 2-0 senza nessun problema Brillanketuram ultimatum per Pavar c'è tempo fino a oggi affare fatto Romelu a Roma in aereo con Friedkin vi porto Lukaku e poi carissimo Mancini eccolo in Arabia il CT più pagato di ogni tempo l'Inter si muove già da grande Dumfries Lautaro in zai distende anche il Cagliari senza problemi c'era qualcuno che voleva paragonare il rigore non dato al Cagliari altri episodi tutte le moviole dicono che non c'era quel rigore lì per subito spegnere eventuali polemiche sull'Uvumbo la svolta dei Nerazzurri ora non fanno più fatica contro le piccole raggiunte in testa Napoli Milan Neverone Inzaghi stende anche il Cagliari senza problemi ma calma i piedi per terra è solo l'inizio Pagelle 7 in zaghi 7 Lautaro il migliore 6 Mkhitaryan 6,5 Sommer 6, Darmian 6,5 De Vrai 6, Bastoni e Barella 6,5 Dunfrid mi sembra un po' poco come Cialanoglu Di Marco 7 Turam 6 Carlos Augusto 6,5 Quadrado 6 Frattesi è nata una coppia l'intesa cresce Turam fa assist Lautaro implacabile insieme più facile scrive il Toro su Instagram in zaghi avanti così cambiato tanto ma siamo forti organizzati il Bayern chiede tempo e ora tratta Cialobà scatta l'ultimatum per Pavar Corriere dello Sport in prima pagina ancora Romelu Lukaku ma alla maglia della Roma non ha più quella della Juve gigantesco tifosi giallorossi in festa alle 17 il belga Ciampino con un euro guidato dal presidente Dan e poi Lautaro incanta l'Inter vince anche a Cagliari quanto sei bello Romelu il regalo dei Fritkin Roma sogna mentre l'Inter non si isola e vince anche a Cagliari